E Mauro Sciulli, il nuovo presidente del Comitato Italiano Paralimpico della Regione Abruzzo. Un grosso risultato ottenuto con un voto all'unanimità. 36 per la precisione i voti dei presidenti e dei rappresentanti delle federazioni appartenenti al CIP e al CONI. A comunicare la notizia lo stesso CIP Abruzzo dopo l'Assemblea Ordinaria che si è tenuta sabato scorso a Chieti, nella sede del CONI provinciale. Mauro Sciulli, 35 anni, sulmonese doc, impegnato da anni nello sport paralimpico all'interno della piscina comunale di Sulmona, raggiunge uno strepitoso traguardo che trova a portare avanti per i prossimi quattro anni. Un successo maturato a seguito di una lunga esperienza e presenza sul territorio e sul campo. Al suo fianco in giunta Monica Ciaramellano, Elvia Rega, Antonio Rotondi, Daniele Tatonetti, Stefania De Felice e Antonio Cippo. «Desidero ringraziare tutti. Per me questa è una giornata bellissima», ha precisato Mauro Sciulli al termine dell'incontro. «Cela metterò tutta per ripagare la grande fiducia che mi è stata data. Darò tutto me stesso perché il movimento paralimpico lo merita. Svolgeremo un grande lavoro di squadra, coordinato dal segretario regionale del CIP, Pierpaolo Addesi, e gli addetti ai lavori che saranno presto nominati». A seconda parte di un'ambiente tramite un'ambiente valente per �� канале.